Le ghiandole surrenali sono posizionate, come dice il nome stesso, come un cappuccio al di sopra dei singoli reni, pur non avendo, se non anatomicamente, delle relazioni con il rene stesso. Appartengono quindi al sistema endocrino e non hanno influenza su quello escritto quale. Le ghiandole surrenali sono divise in due parti, una parte più interna, chiamata midollare, e una parte più esterna, chiamata corticale. Ciascuna di queste due svolge delle funzioni fondamentali per una serie di ragioni. La parte midollare è sotto stretto controllo del sistema nervoso e produce due ormoni, l'adrenalina e la noradrenalina. La prima di queste due è molto più efficace perché ha la capacità di legarsi a dei recettori chiamati alfa e beta sulle cellule bersaglio, a differenza della noradrenalina che invece si lega soltanto ai recettori alfa. Ma a parte questa differenza, la caratteristica di questi due orboni è quella di produrre la cosiddetta reazione del combatti o fuggi. In questa modalità un po' pittoresca si esprime il concetto che in condizioni di particolare stress o di pericolo l'organismo reagisce in questa maniera, appunto, mettendosi nella condizione di poter affrontare questo pericolo, un danno, una minaccia, oppure di allontanarsi dal pericolo fuggendo. Per fare questo il nostro organismo ha bisogno che alcuni organi in particolare siano particolarmente efficienti e irrorati di sangue e ben ossigenati e ben nutriti, in particolare l'apparato muscolare e soprattutto quello degli arti e in particolare il cervello che deve elaborare le risposte, mentre in quello stesso momento probabilmente il sistema tegumentario oppure l'apparato digerente non hanno la stessa necessità di essere efficienti. Per questa ragione l'adrenalina e la noradrenalina fanno aumentare il battito cardiaco sicuramente, fanno aumentare la frequenza respiratoria, ma, e questa è la cosa interessante, fanno anche defluire del sangue dall'apparato digerente verso gli arti e verso il cervello e quindi c'è una vasocostrizione centrale e una vasodilatazione di alcuni organi, quelli che ho appena nominato, in modo tale da poter reagire a questo pericolo. Contemporaneamente questi due orboni hanno un effetto sul fegato perché sia metabolizzata la riserva immediatamente utilizzabile del glicogeno sotto forma di glucosio che serve come combustibile per i muscoli che devono appunto reagire a questo pericolo. È un particolare meccanismo interessantissimo perché è ancora una volta un collegamento stretto, fa il sistema nervoso che per esempio ha percepito con gli organi di senso la presenza di un pericolo e il sistema endocrino che reagisce a questa condizione mettendo l'organismo nelle migliori condizioni per poter reagire e sopravvivere. La parte corticale invece delle ghiandole surenali ha una funzione completamente differente e produce degli ormoni che non sono immediatamente diciamo efficaci, in particolare produce i cosiddetti glucocorticoidi, gli ormoni sessuali, gli steroidi sessuali e i mineral corticoidi. Degli steroidi sessuali diciamo ha più senso parlare quando si parla dell'apparato riproduttore però è chiaro che sono strettamente connessi con lo sviluppo dell'apparato riproduttore, con lo sviluppo appunto degli organi riproduttori e dei caratteri sessuali sia primari che secondari, quindi sono particolarmente importanti nel periodo dell'adolescenza e della pubertà. I mineral corticoidi in cui l'aldosterone è il rappresentante principale hanno a che fare con l'equilibrio idrosalino e agiscono quindi sul rene per favorire l'assorbimento dell'oione sodio e la eliminazione dell'oione potassio nell'eurino. I glucocorticoidi sono invece molto importanti e in questi ultimi anni sono oggetto di studio di attenzione in maniera particolare perché tra di essi c'è il cortisolo che viene considerato un mediatore della risposta immunitaria e della risposta allergica alle situazioni di stress per cui molto spesso capita di sentire che dei farmaci che contengono cortisolo vengono utilizzati appunto per ridurre le forme stressanti di allergie o di particolari reazioni a situazioni di difficoltà. Anche in questo caso è interessante vedere come questa ghiandola sia strettamente connessa con l'ipotalamo. È capitato diverse volte di cogliere i punti di contatto fra il sistema endocrino e il sistema nervoso e questo è uno di questi casi. L'ipotalamo infatti genera, produce e rilascia questo fattore diciamo di rilascio della corticotropina che agisce sulla adenoipofisi, è una delle tropine che l'ipofisi produce e questa a sua volta ha un effetto sul cortico surrene. Non badate al senso di questa freccia che è chiaramente errato, dovrebbe essere invertito, è l'adenoipofisi che agisce sulla ghiandola cortico surrenale determinando il rilascio del cortisolo che a sua volta ha questi effetti di cui parlavamo prima sul metabolismo del glucosio, dei lipidi, dei protidi, sulla riduzione della risposta infiammatoria ed immunitaria, però pare che abbia anche un effetto sulla modificazione dell'espressione genica e questo è particolarmente interessante perché ovviamente cure prolungate basate sull'utilizzo del cortisolo, dei suoi derivati, può avere anche un effetto sull'espressione del patrimonio genetico di chi utilizza questi prodotti.